Buongiorno, oggi è sabato 16 marzo, la rassegna stampa in breve di Video33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo variabilmente nuvoloso nel corso della giornata, prevalenza comunque del sole, temperature massime elevate, vedremo tra poco i dettagli grazie all'aiuto di Daniel Sumerer, in apertura della nostra rassegna una notizia delle ultime ore, incidente stradale spettacolare, fortunatamente senza feriti, alle 5 di mattina a Bolzano in piazza Don Bosco un'auto per causa ancora in via di accertamento, ha finito la sua corsa a ruota all'aria, solo alcune escoriazioni per l'uomo che si trovava alla guida, andiamo con Daniel a vedere quello che accade questa mattina intorno alle 6.30, innanzitutto nella zona dell'Alpe di Siusi, guardate che spettacolo, grazie alle prime luci dell'alba e grazie anche alla neve caduta nelle ultime giornate, identica situazione a Dobbiaco, vedete nuvole basse, neve anche nel fondo valle, neve sulle cime delle montagne. Andiamo, andiamo a vedere la grafica grazie all'esperti meteo della provincia di Bolzano, come detto notevole l'escursione termica, guardate ad esempio a Bolzano si passa da una minima di 4 gradi e ad una massima di 20 gradi. Andiamo in provincia di Trento, ancora più marcata l'escursione ad esempio a Borgo Val Sugana da 0 a 21, a Fiera di Pimiero da 0 gradi, 19 gradi nelle ore più calde, 21 gradi anche a Trento città. Come sempre le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, la stampa locale, il quotidiano Alto Adige, clima all'onda dei giovani, oltre 2000 studenti di tutta la provincia di Bolzano per salvare il pianeta. Ma ok su ghiaccio, gara 2 è finita, è finita 4 a 3 per il Klagenfurt, vedremo tra poco quale sarà il prossimo appuntamento per i biancorossi. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, di indicapertura come tutti i quotidiani locali ma anche nazionali, la grande manifestazione a livello mondiale dei ragazzi che a Bolzano ha fatto scendere in strada 2000 giovani. A 22 riappare lo spettro della gara, l'ira del ministro Toninelli, enti locali, le richieste non sono conformi, risponde con Pacer, l'accordo conviene a tutti. Il quotidiano Ladige, la speranza dei 5000, siamo in provincia di Trento, primo giorno da direttore per il quotidiano Ladige, per Alberto Faustini che lascia la direzione del Trentino. Faustini ricordiamo è già direttore del quotidiano Alto Adige. Oltre alla manifestazione dei 5000 in difesa del pianeta, ci si occupa di microcriminalità Trento Sud, ruba e investe i commessi dopo il furto. Fugge in auto è stato restato il quotidiano Trentino. Salveremo noi il pianeta, questo l'urlo unanime dei ragazzi scesi in piazza. Il ministro Toninelli sappiamo l'ultimatum, richieste irricevibili, gara per la nuova concessione della 22 e oggi è il primo giorno da direttore per Paolo Mantovan, direttore responsabile del Trentino. Sempre per la cronaca, torniamo in provincia di Bolzano con il quotidiano in lingua tedesca Dolomiten, ci si occupa della strage delle due moschee in Nuova Zelanda, anche il Dolomiten dedica spazio alla manifestazione dei ragazzi per il clima e proprio la manifestazione è l'apertura del quotidiano Tagest Zeitung, sappiamo ragazzi che richiamano attenzione anche sulle abitudini alimentari, ad esempio come il consumo eccessivo di carne possa danneggiare non poco il pianeta. Andiamo a livello nazionale, il Corriere della Sera purtroppo strage di islamici in diretta sui social, supermatista bianco entra e spara in due moschee l'attacco in un agghiacciante video della durata dei 17 minuti, ma c'è spazio anche le buone notizie, cioè l'impegno dei più giovani, delle future generazioni proprio per il loro e per il nostro futuro. La foto arriva da Vienna con un bambino che dice è il mio futuro, molti i cortei sappiamo in tutta Italia. Il solo 24 ore, investimenti, torna il bonus per tutti, Ires al 22,5%, il decreto sblocca cantieri, si estende, 35 misure articolate in tre capitoli. È tutto, è tutto per i quotidiani, andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti, gli appuntamenti per i prossimi giorni, oggi Palamano tra Bressanone e Cassano, il 19 torna il playoff Ebel, ok su ghiaccio tra Bolzano e Klagenfurt, il 17 la musica con Tom Walker in concerto a Plandecolones, dal 22 al 24 a Madonna di Campindio, Dolomites Fire e poi il 24 marzo calcio tra Südtirol e Vicenza. Grazie per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33.